Musica Vibbonati per una foto sui social Il battibecco tra una ragazza del posto e un uomo di Padula, padulese accusato di minaccia grave Salernitana, 28enne, muore in un incidente durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A Scuola, sospensioni, causa Covid, a Montesano sulla Marcellana e a Teggiano Sala Consilina, dopo un anno di stop allo sport, si guarda al futuro L'amministrazione comunale presenta le strutture sportive nuove e riqualificate Salernitana in Serie A esplode la festa, 0-3 a Pescara ed è promozione diretta La gioia di una città e il sogno realizzato dei tifosi Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale E' una foto, la causa scatenante di un battibecco sui social Tra una ragazzina del golfo di Policastro e un uomo del Vallo di Diano Uno scontro che ha portato alla denuncia per minacce gravi all'uomo I social, se da un lato aiutano ad intrattenere rapporti e a ridurre le distanze Soprattutto in questo periodo di pandemia che ha impedito anche il vivere sereno dei rapporti tra le persone in maniera diretta Dall'altro però possono rivelarsi dei veri e propri pericoli Lo dimostra quanto accaduto recentemente con la denuncia verso un uomo di Padula che avrebbe minacciato una ragazzina appena maggiorenne di Vibbonati attraverso i social, addirittura mostrando una pistola che i carabinieri della compagnia di Sapri hanno poi identificato in un'arma giocattolo I fatti risalgono allo scorso aprile quando la giovane diciottenne aveva postato una foto sul suo profilo social Immagine commentata dall'uomo del Vallo di Diano riportando parole che si sono rivelate poco gradite dalla giovane tanto da scatenare un acceso battibecco tra i due Un confronto che pare sia poi proseguito con una videochiamata nel corso del quale, secondo quanto emergerebbe, pare che l'uomo avrebbe minacciato la ragazza mostrando addirittura una pistola che si presume fosse un giocattolo Secondo quanto emerge, pare che alla videochiamata assistito anche il fratello della ragazza ed insieme alla diciottenne, spaventati dal comportamento dell'uomo si sono recati dai carabinieri denunciandolo I militari della stazione di Vibonati hanno quindi avviato le indagini sul fatto risalendo al padulese come presunto autore delle minacce A seguito successivi controlli alla ricerca dell'arma i carabinieri non hanno trovato nessuna pistola vera in possesso dell'uomo che al momento è stato denunciato a piede libero con l'accusa di minaccia grave Incidente mortale ieri sera a Salerno durante i festeggiamenti per la promozione della Salernitana in Serie A L'intera città turbata da una tragedia a perdere la vita a un ragazzo di 28 anni La polizia di Salerno che indaga sull'episodio ha requisito i filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante e pizzeria Pinocchio situato sul lungomare Trieste e che sono puntate proprio verso il punto nel quale ieri intorno alle 21 si è consumata la tragedia nella quale ha perso la vita Loris del Campo, 28 anni tifoso Granata che stava partecipando con la fidanzata ai caroselli stradali per festeggiare la promozione della Salernitana in Serie A Il ragazzo era in sella al suo scooter quando per cause ancora non chiare ne ha perso il controllo cadendo rovinosamente sull'asfalto a faccia in giù finendo sotto la ruota di un'auto in sosta una Jeep Renegade Proprio la presenza dell'auto ostacolerebbe una visione completa dei filmati ma in ogni caso la polizia che con i vigili urbani di Salerno sta ricostruendo la dinamica li ha requisiti per studiare ogni dettaglio Alcuni testimoni avrebbero raccontato dell'esplosione di un petardo che avrebbe spaventato Loris costringendolo ad una manovra repentina Sull'asfalto i segni tracciati nel tentativo di ricostruire la dinamica mostrano una curva del mezzo verso sinistra compatibile con l'ipotesi che il centauro avesse voluto evitare improvvisamente qualcosa o comunque che abbia perso il controllo del mezzo Diversi segni tracciati dagli inquirenti sull'asfalto che accolgono un'aria vasta che abbraccia l'intero tratto dall'angolo della strada all'enoteca al ristorante Da subito è stato chiaro che non c'era più molto da fare per la vittima La caduta è stata fatale mentre non si è ferita la ragazza in sella con lui allo scooter Il rispetto alla tragedia sono al momento sospesi tutti i festeggiamenti e l'ingresso allo stadio Arechi è stato transennato vietando appunto l'ingresso a tutti Tantissimi messaggi di cordoglio che amici e parenti di Loris stanno postando sulla bacheca del suo profilo Facebook In molti già nella serata di ieri si sono portati presso l'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Due Ruggi d'Aragona di Salerno Per tutti è incredibile la vicinanza tra la gioia dei festeggiamenti ai quali Loris aveva partecipato con grande gioia alla tragedia al silenzio che hanno subito dopo circondato il dolore per la sua tragica morte Alle ore 11 di questa mattina il centro commerciale diano di Atena Lucana ha partecipato alla protesta nazionale con lo slogan Chiudiamo perché vogliamo riaprire contro la chiusura forzata nei festivi e prefestivi e per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei centri, dei parchi e delle gallerie commerciali Saracinesche simbolicamente abbassate per 10 minuti a favore di chi è penalizzato da questa situazione Si parla di 800 mila posti di lavoro, 36 mila negozi 1300 centri commerciali incomprensibili spiegano dal centro commerciale valdianese le ragioni del decreto che continua a far rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi i punti vendita di tutti nei centri commerciali d'Italia questi luoghi continuano ad essere sicuri per lavoratori e consumatori la protesta è un gesto simbolico per chiedere al governo e alla politica di farci tornare subito alla normalità Andiamo avanti Scuola in presenza ancora a singhiozio nel Vallo di Diano Sono state disposte sospensioni a causa del covid nei plessi di Montesano e nella scuola primaria di Prato Perillo a Teggiano Ancora sospensioni delle lezioni in presenza in alcuni plessi scolastici del Vallo di Diano a causa del covid A Montesano sulla Marcellana con apposita ordinanza è stata disposta la sospensione della didattica in presenza per la prima classe dell'istituto tecnico turistico fino al prossimo 15 maggio salvo ulteriori determinazioni un provvedimento necessario a seguito della comunicazione della positività di un allievo dell'istituto superiore Nel contempo e in via del tutto precauzionale visto l'utilizzo da parte degli studenti di spazi comuni è stata disposta la temporanea chiusura dell'attività in presenza con attivazione della DAD per le giornate di oggi e domani di tutte le altre classi dell'istituto tecnico turistico della scuola media di Scalo e della quinta elementare sempre di Scalo che frequenta in quel plesso scolastico Lo scopo, fanno sapere dal comune guidato da Giuseppe Rinaldi è consentire un intervento straordinario di pulizia disinfezione e sanificazione degli ambienti scolastici Sospensione delle lezioni in presenza anche per gli alunni del plesso scolastico della scuola primaria di Prato Perillo di Teggiano fino al prossimo 15 maggio Ieri sera è stata emessa apposita ordinanza da parte del sindaco Michele Di Candia provvedimento necessario anche in questo caso a seguito della comunicazione da parte dell'Asla di Salerno della presenza di un caso positivo Covid-19 per un alunno della scuola Sospensione dunque temporanea dell'attività didattica in presenza per tutte le classi del plesso della scuola primaria di Prato Perillo al fine di consentire le necessarie sanificazioni degli edifici Una svolta epocale così è stato definito il Recovery Plan da Coldiretti Campania vediamo perché Il Recovery Plan può rappresentare quella rivoluzione da tempo spiccata e in grado di segnare la strada del rilancio dell'economia agricola è quanto rimarcato da Coldiretti Campania negli ultimi giorni oltre a una consistente dose di risorse finanziarie con 5,7 miliardi destinati agli interventi squisitamente agricoli l'agroalimentare rientra a pieno titolo in moltissime misure trasversali Nel Piano Nazionale di Riprese e Resilienze è stata recepita la strategia che da anni la Coldiretti porta avanti e che vede l'agricoltura e l'agroalimentare connessi con tutti gli altri settori produttivi e con le azioni di sviluppo del Paese Al centro del progetto infatti si prevede una filiera agroalimentare sostenibile con aziende agricole più competitive in grado di garantire migliori prestazioni climatico-ambientali e aperte all'innovazione l'acqua in primis considerato che per le risorse idriche sono stati stanziati 4,8 miliardi utili per conseguire l'obiettivo dell'aumento delle rese produttive in un'ottica di autosufficienza alimentare ma anche per garantire livelli elevati di standard qualitativi e poi sono stati previsti progetti di filiera che contano su 4 miliardi perché inseriti nel fondo complementare con una maggiorazione di risorse col diretti anche in questo campo in cantiere numerose iniziative alcune delle quali interessano particolarmente le regioni meridionali basate sulla produzione dell'olio, dell'ortofrutta e dello stoccaggio dei cereali Oltre un anno di stop per i limiti imposti alle attività sportive non hanno fermato l'amministrazione comunale di Sala Consilina che ha utilizzato questi mesi per completare le opere programmate dalla delegata Elena Gallo sulle strutture sportive Quest'anno di stop e di limiti non ha fermato l'attività dell'amministrazione comunale di Sala Consilina guidata dal sindaco Francesco Cavallone su input della delegata allo sport Elena Gallo che ha proseguito con le opere finalizzate a donare alla comunità strutture sportive nuove e riqualificate al fine di poter riprendere appena sarà possibile con le attività agonistiche sportive La pratica delle attività sportive a Sala Consilina rientro dopo questo lungo periodo di stop consentirà agli atleti e agli appassionati di poter usufruire di tre strutture riqualificate riammodernate e dotate di tutti gli spazi utili e confortevoli per il pre e post gara oltre che per assistere alle attività A Sala Consilina sorge una nuova struttura sportiva che va ad ampliare e rendere ancor più ricca l'offerta del Polo Cappuccini Accanto al teatro e alla riqualificata area del Polo Culturale Cappuccini tutto pronto per l'apertura anche del campo polivalente realizzato grazie all'iniziativa Sport Missione Comune Una maxistruttura coperta e riscaldata al servizio della comunità dove sarà possibile praticare diversi sport come basket, pallavolo o calcetto Ma le opere realizzate dall'amministrazione Cavallone e dalla delegata Elena Gallo per favorire l'attività sportiva Sala Consilina non si fermano qui Nuovi interventi hanno riguardato anche lo stadio comunale Osvaldo Rossi e anche il Palazzingaro dove sono state realizzate nuove opere all'interno degli spogliatoi lavori che si possono ormai definire conclusi e che vengono presentati in un video dall'amministrazione comunale orgogliosa di quanto fatto e di non aver reso vana l'attesa verso la ripresa È stato un anno difficile e particolare sottolineano dal Comune è la normalità di un tempo e una luce che finalmente si riesce a intravedere Abbiamo voluto utilizzare questo periodo per terminare e preparare al meglio le nostre strutture sportive rendendole pronte per quando tutto ripartirà con ancora più slancio Terminare innanzitutto la nuova struttura in località Cappuccini adeguare il Palazzingaro per renderlo ancora più sicuro così come rendere ancora più accoglienti gli spazi dello stadio comunale Osvaldo Rossi ci è sembrato il giusto modo per guardare con fiducia al futuro di noi tutti attraverso lo sport Una depandanza e una tettoia abusive scoperte a Capaccio Pestum erano state realizzate da un privato a ridosso della spiaggia in località Torre di Mare Licinelle tutto sequestrato e l'uomo denunciato Nell'ambito di mirati controlli anti-abusivismo edilizio e di tutela dell'ambiente sul territorio di competenza i carabinieri della stazione di Capaccio Scaro diletti dal luogotenente Giuseppe D'Agostino nel pomeriggio di ieri hanno sequestrato due manufatti una depandanza in muratura e una tettoia in legno realizzati da un privato in via Mantegna a ridosso della spiaggia in località Torre di Mare Licinella contestandone l'abusiva realizzazione in assenza delle necessarie autorizzazioni tra cui il parere della soprintendenza visto che la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico nonché l'illecita occupazione di demanio marittimo denunciato per abusivismo edilizio a seguito di specifiche violazioni un uomo di 54 anni affettuario di una villetta nella zona l'attività è stata coordinata dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Fabio Lagarello Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità Rieccoci tornati in studio tenere le luci accese sull'arte e la cultura percorrendo nottetempo musei e siti attraverso i social è l'iniziativa Museum at Night Challenge partita dal Belgio una sfida a cui partecipa anche il geosito di Pertosa Auletta vediamo che cosa hanno immaginato che succede quando i visitatori non ci sono di notte Cosa succede in grotta quando il sole tramonta e tutti si addormentano? La risposta è che la grotta non dorme mai il lavorio della natura è lento ma incessante che fuori sia notte o giorno estate o inverno lo raccontano per partecipare all'iniziativa social Museum at Night Challenge dalle grotte di Pertosa Auletta immaginando le mini figures slego all'opera nelle ore notturne lì ad esaminare e modellare la caverna goccia dopo goccia dando vita a concrezioni in mozzafiato un'idea originale per tenere le luci accese sul geosito che è lo scopo per cui è nata l'iniziativa far conoscere luoghi e opere attraverso i social percorrendo idealmente nottetempo musei, gallerie, siti archeologici la Museum at Night Challenge ha preso il via in Belgio dal Parco Museo Le Pass a Framerie e sta coinvolgendo tutta l'Europa ognuno racconta a suo modo pubblicando foto e video cosa accade di notte quando i visitatori se ne vanno e le luci si spengono la sfida si svolge interamente sui social dove ogni partecipante deve anche individuare altri tre luoghi d'arte e cultura le grotte di Pertosa Auletta sono state coinvolte dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e a loro volta coinvolgono il Museo del Suolo il Museo Speleo Archeologico e la Certosa di Padula che ora sono chiamati a svelarci cosa succede al loro interno quando sono chiusi al pubblico Esce My Age il nuovo videoclip del cantautore cilentano Walter Di Bello con sonorità tra folk e brick pop un video girato durante il lockdown Pubblicato il video ufficiale di My Age il nuovo singolo composto dal cantautore cilentano Walter Di Bello in collaborazione con A Smile From Godzilla un brano tra folk e brit pop che arriva dopo il successo del precedente singolo Your Race per il cantante diviso tra il sud dell'Inghilterra e il meridione d'Italia dal momento che la sua base è a centola nel cilento il connubio di anime afferma Di Bello è davvero inaspettato il brano sembra parlare in qualche modo di un periodo della vita in cui si diventa adulti senza neanche rendersene conto Daniele della progetto A Smile From Godzilla racconta che My Age è nato da un'amicizia iniziata dopo un'esibizione a Marina di Camerota per il Meeting del Mare dello scorso anno il brano in bilico tra due mondi apparentemente lontani ma nello stesso tempo molto vicini il folk e il brick pop è stato registrato a distanza e successivamente mixato e masterizzato a Vallo della Lucania il videoclip è stato realizzato da Walter Di Bello durante il periodo del lockdown e comprende alcune immagini di vita quotidiana dei due artisti tra immagini di vecchi concerti pre-covid e scene di svago spiega l'autore il brano My Age diventa una vera celebrazione della vita nell'attesa di riprendere con i live questo videoclip lascia presagire una piccola fiamma di speranza nel panorama underground musicista e compositore eclettico Walter Di Bello attinge a piene mani tanto dal folk di matrice statunitense quanto dal regge passando per l'elettronica il pop e il soul sonorità acquisite dalle tante esperienze fatte fino ad oggi da Walter Di Bello e ora la Salernitana era necessaria una vittoria per non dipendere dagli altri campi ma visto il risultato del Monza contro il Brescia e del Lecce contro la capolista Empoli anche una sconfitta avrebbe regalato un'immensa gioia ai tifosi ma i ragazzi di Mister Castori non hanno voluto rischiare e nella seconda frazione di gioco hanno messo con le spalle al muro gli avversari un rigore al 67esimo perfettamente trasformato in gol da Andre Anderson ha aperto i giochi verso la festa a cui ha partecipato subito dopo Casasola al 72esimo una manciata di minuti e Gennaro Tutino chiude definitivamente i conti esplode la festa tra i tifosi della Salernitana che da 23 anni aspettavano il momento della promozione Granata tornano in Serie A ed esaltano i Mister Castori che entra così nella storia dei grandi allenatori della Salernitana un sogno a lungo sperato ma che fino all'ultimo è stato tenuto segreto dalla prossima stagione lo stadio Arechi sarà palcoscenico di importanti gare mentre ieri il popolo Granata non ha contenuto l'immensa gioia in una Salerno tinta dei colori Granata una gioia attesa più di 20 anni la promozione come un appuntamento col destino fissato esattamente nello stesso giorno della volta precedente ancora è sempre un 10 maggio da ricordare in tutti i sensi tra entusiasmo ed eccessi Salerno ha atteso e poi accolto la terza promozione in A della sua squadra cercando di mantenere un comportamento in linea con le regole imposte dal Covid e con le ordinanze messe quasi sul gong dal sindaco l'ordine pubblico è stato messo a dura prova e forse è mancato un provvedimento che sebbene impopolare avrebbe potuto risolvere a priori qualche problema chiudere al traffico veicolare le vie del centro per favorire il deflusso a piedi delle persone e facilitare anche il compito delle forze dell'ordine erano circa 800 gli agenti a disposizione ma ad un certo punto si è avuta la sensazione che non potessero fare molto per arginare il fiume di gente che si è riversato in strada era prevedibile ed era anche comprensibile che Salerno avesse voglia di festeggiare ma di certo si dovevano evitare alcuni eccessi la festa deve essere un momento di coinvolgimento per vecchie e nuove generazioni ma proprio perché sia veramente tale non devono trovare spazio comportamenti sopra le righe che purtroppo non sono mancati il Covid era ed è un nemico invisibile saltato il distanziamento si spera che l'uso della mascherina possa aver evitato danni eccessivi esplodere fuochi d'artificio tra la follia di persone e veicoli non è un comportamento in linea con l'idea di festa Salerno deve dimostrare di essere pronta ad affrontare una nuova avventura in massima serie che esporrà la città l'intera comunità e la tifoseria ad una maggiore attenzione mediatica anche a livello nazionale il calore il colore la passione della gente di Salerno sono da prima pagina gli eccessi e le derive vanno però eliminati perché proprio alla luce della conquista della massima rivalta calcistica sarebbero ancora di più destinati a finire sotto la lente di ingrandimento ora si deve voltare pagina bisognerà farsi trovare pronto sotto tutti i punti di vista la serie è una grande occasione una bellissima vetrina ma comporta anche grandi responsabilità e sarà a cura di tutti ciascuno per le sue competenze riuscire a far sì che questa volta tutto vada per il verso giusto ed è tutto per oggi era questo il nostro ultimo servizio grazie per essere stati con noi buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti